Eccoci con le interviste del dopogara della partita tra Macachi, Cingoli e Trieste terminata 21-20. Siamo con Marco Visentin. Marco una partita equilibrata, sotto 9-4 nel primo tempo siete riusciti a pareggiare, addirittura andare sul più 2 nella ripresa. Poi nel finale Cingoli è riuscita comunque a compistare due punti. Come commenti questa sfida? Siamo entrati in campo sicuramente non con la giusta mentalità, soprattutto i primi dieci minuti. Siamo andati sotto, come dicevi tu, 5-1, 9-4, poi da lì abbiamo recuperato fino ai dieci pari. Secondo tempo abbiamo iniziato un po' meglio rispetto al primo, poi abbiamo avuto un vuoto, soprattutto nella fase offensiva che ha durato penso un quarto d'ora. Siamo arrivati alla fine sul punto a punto, la spuntata Cingoli, che è già la terza partita di fila che vince di uno, quindi complimenti a loro. Vediamo, lavoriamo sui nostri errori, vediamo di andare avanti. Comunque il campionato è ancora lungo, la lotta play-out è più viva che mai. Quali sono i correttivi che dovrete apportare per continuare il vostro campionato? Sicuramente sulla fase offensiva. La difesa nelle ultime partite sta tenendo molto bene, abbiamo una media gola abbastanza bassa, però non riusciamo poi a trasformare in attacco quello che conquistiamo in difesa. Quindi sicuramente un punto di partenza su cui lavorare è questo qui. Grazie mille, buon rientro. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Eccoci con Sergio Palazzi, ciao Sergio. Un'altra vittoria, la terza di fila, ancora di uno. Questa volta vi siete un po' complicati la vita, come commenti la sfida? Sì, abbiamo imparato che le vittorie valgono tutte due punti, non è come il rugby, quindi va bene, ce le prendiamo tutte anche di uno. Non è stato facile perché chiaramente mai era normale e non è una giustificazione, ci portiamo le scorie di mercoledì ancora, contro una difesa molto fisica come quella di Trieste, ma credo che la differenza principale siano stati i tiri sbagliati. E andando così a memoria, credo che il nostro problema non è stato attaccare la difesa di Trieste, certo in certi momenti lo è stato, ma è stato finalizzare l'attacco alla difesa di Trieste e in questo Garcia è stato straordinario. Dall'altra parte, strepitoso Federico Miail, che ci ha dato una grande mano in un momento di difficoltà con un paio di parate pesantissime, ma credo che ancora una volta la prova difensiva sia stata eccellente. Ne avevamo parlato durante le vacanze di Natale, che era nella nostra metà campo, dove dovevamo crescere, abbiamo concesso qualcosa di troppo in ripiegamento nel primo tempo, poi non l'abbiamo più fatto, ed è andata bene, ci è mancato qualche gol in un momento cruciale, però questa squadra sa che deve giocare ogni palla, questa squadra ha voglia di continuare a giocare in Serie A Gold e oggi penso l'abbia dimostrato, nonostante credo nei miei quattro anni a cingoli sia stata la partita più brutta che abbiamo giocato. Ora vi aspetta la trasferta di Bolzano tra quattro giorni, come stai lavorando per mantenere alta la concentrazione in questo periodo in cui vi riposate veramente pochissimo? È molto difficile perché poi appunto vincendo di uno, giocando ogni partita così fino all'ultima palla, sono le energie mentali quelle che poi veramente mancano, e quindi abbiamo bisogno proprio di rilassarci, di staccarci, di pensare il meno possibile alle cose, di fare degli allenamenti più leggeri, di prestare magari un po' più di attenzione al video, che diventa un vero e proprio allenamento. Ci aspettano altre due partite difficilissime, perché la trasferta di Bolzano è una trasferta difficile, ma Bolzano mercoledì giocherà la sua quinta partita in 13 giorni, e allora perché non pensarci? Poi sabato si va ad Appiano, e Eppan, la partita di Eppan è come la partita di oggi, è una partita di quelle che dobbiamo giocarci perché è uno scontro diretto, perché vale quattro punti e non vale due, e quindi è fondamentale. Dobbiamo fare dei sacrifici in questa settimana, dobbiamo stringere i denti, ma io credo che questa squadra ha voglia di fare i sacrifici e stringere i denti, e mi auguro che andrà tutto bene. Grazie Sergio e buona serata a tutti. Grazie Giacomo, grazie a tutti.